Da grande appassionato di tecnologia e come già saprete in modo particolare di quello Apple, stavo cercando da tempo qualcosa che mi aiutasse a decorare il mio studio, che è anche la mia casa, rappresentando così a pieno questa mia grandissima passione. Così un giorno, navigando sul web, per caso, forse per fortuna, mi sono imbattuto sul sito di Grid, un'azienda che crea e vende prodotti elettronici smontati e infine incorniciati ad altissima precisione e ad altissima qualità. Ho pensato così di condividere con voi la bellezza di questi oggetti, sperando anche che possano in qualche modo solleticare la nostalgia per prodotti storici di altissimo rilievo che magari hanno semplicemente rappresentato una fase tecnologica importante per la nostra vita. Prima di proseguire e come sempre vi chiedo per favore di lasciare un like a questo video ed effettuare l'iscrizione al mio canale. Vi aspetto anche sul mio profilo di Instagram e sul mio canale pubblico di Telegram. I link sono qua sotto in descrizione. Ed ora sono finalmente pronto a mostrarvi questo splendido iPhone 4 realizzato e incorniciato by Grid. Prima di procedere oltre ci tengo a sottolineare che questo video non è assolutamente sponsorizzato da Grid. Questa cornice me la sono personalmente acquistata sul loro sito. È arrivata in effetti già da un paio di mesi ma ho voluto aspettare ad aprirla per farlo insieme a tutti voi. Quindi comincio iniziando proprio dall'unboxing che vedete arriva in una confezione di cartone non troppo grande e fatta decisamente direi abbastanza bene. Qui c'erano tre plastiche che ho tagliato e procedo con l'apertura. Come vedrete già all'interno si trovano un adesivo molto carino di Grid e anche un coupon di sconto che mi darà il 15% sul prossimo acquisto. Poco male perché volevo prendere un altro modello. Li metto un attimino da parte e tiro fuori inizialmente quelli che sono i ganci da muro quindi che possiamo martellare al nostro muro per applicare poi la cornice e c'è anche una pastina che probabilmente è una pastina incollante se non vogliamo fare questi buchetti. Al suo interno c'è la cornice che è impacchettata in una meravigliosa direi confezione in cartone. La tiro fuori così da togliere questo scatolone. Ed eccola qui la confezione che come vi dicevo è realizzata in un cartone di altissima qualità. C'è un nastro quasi da fiocco che viene anche sigillato da un timbro in cera che ci riporta a vecchi tempi. C'è anche un ramoscello. Io lo stacco. Mi piace un sacco questa fase. Vediamo se riesco a non romperlo. Direi di no. Una volta rimosso il fiocco vado ad estrarre la cornice al suo interno e qui di lato c'è una sorta di linguetta, poco male, si è strappata. La stacco e poi provo a tirar fuori la cornice se riesco. Ed eccola qua. Wow, che bellezza! La cornice arriva con anche una pellicola sopra il vetro che vado a togliere così non mi crea degli riflessi che vi entrano poi in camera. Ed ecco qua a toglierla. Non è stato poi così facile. Bastava premere leggermente il vetro che andava in dentro e veniva così la plastica via in modo molto più semplice. Eccolo qui, il grid iPhone 4. Come vedete, io ho scelto proprio questo modello che ritengo essere uno dei modelli più importanti e storici di tutti i modelli di iPhone che Apple ha creato. È veramente un gran bel vedere perché dalla parte sinistra c'è il display smontato con tutte le varie componenti e qui vediamo anche la camera frontale che fu proprio una novità presente in iPhone 4. Il pulsantino Home, quella che era la scheda madre all'interno di iPhone 4 con tutti i vari chip transistor. È bellissimo da vedere anche i pulsantini che erano rotondi più e meno che forse, si dice, potrebbero tornare con i prossimi modelli di iPhone. C'è addirittura il carrellino per la SIM, davvero ben fatto, più tutti i vari connettori. Nella parte invece più centrale c'è il vero e proprio corpo dell'iPhone 4. Vi ricordo che Grid utilizza dei prodotti riciclati e restaurati per fare questi meravigliosi quadri e la qualità si vede tutta, compreso il vetro posteriore che era davvero bello nel colore nero con anche l'impianto sia del jack per le cuffie ma sia della fotocamera posteriore. Infine, in fondo, c'è anche i due altoparlantini. In questo modello, a differenza di altri che potete scegliere e che vi parlerò fra pochissimo, non c'è la batteria che comunque anche nei modelli in cui è presente non è reale, ma è finta per una questione anche di sicurezza essendo messa all'interno di un quadro. Qua sotto vengono riportate anche le dimensioni del dispositivo sono chiaramente indicazioni nella metrica americana e in alto è bellissimo vedere che sotto la scrittina iPhone 4 c'è quello che venne usato come spot al momento del lancio cioè questo cambierà tutto un'altra volta. Infine, in fondo, cosa per i nostalgici un po' come me di Steve Jobs c'è una sua citazione bellissima che dice che siamo qui per lasciare un segno nell'universo altrimenti perché saremmo qui. La cornice quindi è bellissima da vedere c'è veramente un ordine pazzesco con tutti i componenti che vanno a formare poi un iPhone 4 e è estremamente leggera quindi non dovrebbe essere un problema appenderla un po' ovunque anche aiutandosi dai gancetti che vi ho mostrato poco fa. Credo che sia davvero un oggetto che per i nostalgici o per i più affiatati e appassionati della mela non possa mancare nelle proprie case. Questo è uno dei tanti modelli che Grida realizza perché fa tantissimi modelli di iPhone dai più vecchi quindi si parte addirittura dal primissimo iPhone che costa decisamente di più rispetto a questo e che è purtroppo quasi sempre sold out. Solo a volte torna in vendita ma nel giro di poche ore rifinisce quindi poi Grida deve rimettersi a produrli prima di rimetterli in vendita. È anche disponibile il 3G, il 3GS, questo è il 4, c'è il 4S, c'è il 5, 5S e si arriva fino all'iPhone X che costa un pochino di più perché chiaramente le componenti sono più recenti. Come vi dicevo è davvero bello da vedere e dal vivo fa sicuramente un'altra impressione rispetto a quella che vedrete sul sito. Io vi lascio comunque qua sotto in descrizione il link di questo modello che ho comprato io ma anche di tutti gli altri quindi se volete magari informarvi o comprarli seguite i link che trovate qua sotto. A me questo modello è costato 129 dollari ed è arrivato a casa mia nel giro di 7-14 giorni adesso non ricordo bene perché appunto sono passati diversi mesi è comunque arrivato in stato eccellente e il prezzo secondo me è molto adeguato per una cornice di questo tipo perché oltre che esserci tutti i vari componenti dell'iPhone c'è anche una cornice, un vetro e la possibilità di montarlo. Gli altri modelli come vi dicevo hanno dei prezzi che variano li potrete vedere dai link che vi ho lasciato qua sotto il più caro mi sembra che sia proprio l'iPhone di prima generazione che costa all'incirca attorno ai 300 euro ho visto che ultimamente Grid ha fatto anche dei pacchetti di diversi modelli quindi credo che ci sia il 4, il 5 e il 6 che si possano comprare in un colpo unico e magari se siete davvero tanti appassionati perché non pensarci ma Grid non fa solo queste cose perché produce anche cornici di console gaming storiche come per esempio il Game Boy o penso anche al DualShock 4 di Sony che è il controller della PlayStation 4 e fa anche cornici di dispositivi Android, Samsung li potete trovare comunque tutti sul loro sito sempre dalla descrizione qui sotto dove ci sono tutti i link e veniamo alle conclusioni trovo un'idea geniale questa cosa fatta da Grid cioè mettere lo spaccato con tutti i componenti di uno smartphone all'interno di una cornice da poter installare nei nostri studi e nelle nostre case è davvero ben fatta sia a partire dalla cornice che dal vetro che soprattutto dai componenti interni che troviamo minuziosamente applicati proprio come faceva Apple io qui vicino ho anche un iPhone 4 e che dire sembra veramente identico da vedere rispetto a quello che c'è all'interno del vetro il prezzo secondo me è adeguatissima vista la grande qualità se lo volete ordinare vi ricordo che appunto qui sotto ci sono tutti i link e ditemi adesso che è la cosa che mi interessa di più anche cosa ne pensate voi di questa cornice se state pensando magari di acquistarla e se sì in quale modello quando passate da lì sotto vi chiedo come sempre per favore di lasciare un like ed effettuare l'iscrizione al mio canale direi che anche per oggi è davvero tutto io adesso mi prendo la mia splendida cornice di Grid e me la vado installare da qualche parte qui nel mio studio non so ancora bene dove ma lo troverò a brevissimo noi ci vediamo presto prestissimo qui sul canale un grande saluto da Francesco ciao 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 Grazie a tutti.